Siamo prossimi al Natale, che è un momento di auguri, di riflessione, di gioia in famiglia, di doni, ma è anche un grande tema per quanto riguarda il lavoro. Partiamo dai dati della nuova legge di stabilità, che in questi giorni verrà definitivamente approvata, prima del Senato e poi della Camera, per segnalare che c'è un grosso investimento per quanto riguarda il costo del lavoro, nel senso che nell'intero 2024 verrà garantito una riduzione di 7 punti percentuali per i redditi da lavoro dipendente fino a 25 mila euro l'anno e di 6 punti percentuali per quelli fino a 35 mila euro. Accanto a questo una forte decontribuzione per le donne che hanno da due figli in su, per aiutare anche il loro rinsedimento nel mercato del lavoro, in generale misure anche che riguardano direttamente gli occupati per il sud, che è una delle grandi problematiche che riguarda il nostro mercato del lavoro. Insomma, dal punto di vista dell'azione governativa ci sono dei segnali importanti che quindi vengono per altro colti dal mercato perché mai come quest'anno stiamo assistendo ad una crescita del numero degli occupati e anche degli occupati stati. C'è un tema di fondo che è quello invece del costo del lavoro che oggi viene affrontato, ma anche il tema delle retribuzioni. La proposta del governo va nella direzione di incrementare la forza, l'efficacia della contrattazione collettiva perché c'è il dato di fatto oggettivo che il nostro paese ha una diffusione notevole della contrattazione collettiva, ma una parte del nostro mercato del lavoro per la debolezza anche della contrattazione collettiva garantisce dei contratti e dei salari che sono oggettivamente da rivedere verso il rialzo. Rafforzando la contrattazione collettiva si aumenteranno sicuramente i salari, ma al tempo stesso si provvederà anche a dare forza agli altri istituti contrattuali, mentre la misura del salario minimo avrebbe concentrato l'intervento unicamente sul trattamento minimo con il rischio che quelli che oggi guadagnano uguale o di più avrebbero visto uno stop e un rallentamento della loro crescita occupazionale in un paese nel quale, come noi ben sappiamo, da molto tempo il monte dei salari è fermo e qui di conseguenza, considerato il costo reale del lavoro, il rendimento netto delle nostre retribuzioni si va a abbassare. Ma Natale è anche l'occasione per ripensare agli incrementi che sono derivanti dalla crescita dei consumi, su questo c'è un versante di riflessione che va sicuramente aperto, in questo periodo si moltiplicano le occasioni di sagre, di feste, di incontri, di opportunità di socializzazione che comportano automaticamente un grande investimento sul versante dell'occupazione, occupazione temporanea che però ci dà un segnale importante, questo è il nostro paese, ha grandi prospettive anche dell'accoglienza, della crescita, della relazione che deve riguardare non solo il nostro mercato nazionale ma ancora di più quello estero, pensate per esempio al boom di Napoli, queste dinamiche devono essere strutturate attraverso interventi che rendano più stabile il grande mercato del lavoro delle occasioni temporanee, nelle quali peraltro si ammita spesso il buco nero del lavoro grigio, del lavoro occasionale, del lavoro senza tutela e senza garanzie, probabilmente quindi noi dobbiamo ragionare nella direzione di dare sostegno a questo tipo di attività garantendo al tempo stesso una sostenibilità finanziaria e quindi evitare di sovraccaricare il costo di questo lavoro di oneri accessori e previdenziali troppo alti che scoraggerebbero la regolarizzazione degli stessi ma al tempo stesso dare anche diritti e garanzie a questi lavoratori, parliamo di centinaia di migliaia se non di milioni di lavoratori che a vario titolo sono coinvolti in questo tipo di attività rispetto alle quali quindi c'è bisogno di un grande intervento, probabilmente una misura che bisognerebbe immaginare e mettere a sistema è che la grande platea degli occupati temporanei nelle iniziative diciamo così fieristiche, nelle iniziative di spettacolo, iniziative di mercatini fiere eccetera eccetera eccetera, quindi parliamo di grandi attività che si svolgono in modo sparpagliato nel corso dell'intero anno potrebbero entrare a far parte di un intero bacino nazionale dal quale attingere preferenzialmente per costruire questi tipi di rapporti in modo tale da garantire per esempio come accade ad altre tipologie di attività una risorsa stabile di occupazione, ad esempio una sorta di salario di minimo di sostenibilità per essere parte di questo percorso che accompagna i lavoratori nei tempi in cui non lavorano ma con l'incentivazione al ricorso di questi lavoratori e quindi una facilitazione fiscale e previdenziale si potrebbe poi garantire invece in questo tempo di occupazione un trattamento economico più significativo e questo comporterebbe il doppio vantaggio di far uscire dal nero e quindi e far entrare il mercato dei consumi, della regolarità ma anche degli diritti e delle tutele questi lavoratori, pensate a quanto poi costano lavoratori che stando al nero finiscono per accedere per non avere altri strumenti a tutte le forme di assistenza indirette che costano sulle collettività anche laddove godendo di un trattamento retributivo dignitoso e costante potrebbero invece uscire dalla platea del bisogno legale, quindi ci sarebbe anche un altro vantaggio in questa dimensione, quindi un grande bacino nazionale nel quale incentivi nei momenti di occupazione per rendere più vantaggiosi e sostegno nei tempi di pausa potrebbe dare una grande risposta in un paese come il nostro che dell'accoglienza, della capacità, della creatività nel creare occasioni di incontri e di socializzazione ha sempre fatto la sua forza. Intanto buon Natale!